Breve cerimonia al Liceo Leopardi di Macerata con la dirigente Anna Maria Marcantonelli e Antonio Morelli, esecutore testamentario, scoperta una targa in ricordo della professoressa Sara Ciccarelli, studentessa, insegnante e benefattrice della scuola. Abbiamo voluto rendere omaggio a una importantissima persona che è stata studentessa e insegnante della nostra scuola. È una persona che ha creduto talmente tanto nella scuola, nel liceo, in particolare nel liceo classico di Macerata, che ha voluto rendere omaggio alla sua morte con un legato che noi stiamo utilizzando, secondo quelle che erano le sue disposizioni, per realizzare una borsa di studio per gli studenti meritevoli, in modo che possano ricordare veramente quel grande contributo che questa donna ha dato. Ci fa molto piacere perché attesta veramente la fiducia nell'istituzione, nella scuola, in particolare nel nostro liceo. Ogni anno noi organizziamo delle cerimonie di consegna dei diplomi e di consegna degli attestati di merito per i ragazzi più bravi che si sono distinti in particolari campi e abbiamo così l'opportunità di poter consegnare questa borsa di studio. È una cerimonia molto bella nella quale gli studenti ricevono una gratificazione per l'impegno e per il lavoro che svolgono. Quindi ringraziamo veramente la professoressa Sara Ciccarelli per il grande contributo che ha dato come insegnante e che sta dando ora alla nostra scuola. La dirigente sottolinea anche come il liceo Leopardi rimanga nel cuore di chi l'ha vissuto sia come studente sia come insegnante. Questa è veramente una cosa che ho potuto ogni giorno apprezzare, il fatto che la scuola resti nella memoria un bellissimo ricordo. Spesso gli studenti ritornano anche a distanza di molti anni ed è veramente un grande piacere perché non c'è nulla di più bello per una scuola che essere ricordata come un momento bello, importante, formativo nella vita di ognuno.